Allora, buon pomeriggio, siamo in compagnia di Rocco Guglielmo, presidente della fondazione appunto Rocco Guglielmo, che cura questa mostra di Massimo Sirelli. Allora Rocco, dici la tua in merito. Questo era un pensiero che abbiamo avuto insieme a Massimo di contaminazione di un luogo storico quale è questo della grangia di Montauro. Abbiamo pensato questa mostra in doppia sede, alla grangia di Montauro in un primo periodo, in un secondo periodo alla Camera di Commercio di Catanzaro. Quasi a voler unire questi due luoghi, una città nel Medioevo, questo era il deposto del grano, è l'operosità che simboleggia la Camera di Commercio. Si inserisce in un percorso che è già iniziato la settimana scorsa e che vede una contaminazione forte di luoghi storici e simbolici con opere di arte contemporanea. Settimana scorsa abbiamo inaugurato nelle chiese di Gerace e nelle piazze di Gerace, nel castello di Roccerle, nel palazzo di Francia a Santa Caterina dello Ionio. Oggi inauguriamo qua con questa mostra che un po' gioca sui colori e sulle forme delle bandiere ma che in modo più profondo ci interroga su alcuni concetti che oggi stanno venendo meno, il concetto di appartenenza, di nazione, in un mondo sempre più globalizzato dove vengono persi i punti di riferimento e dove altri valori si sostituiscono da quelli che conoscevamo fino a pochi anni fa, cioè quello dell'assistenza, del mutuo soccorso, della collaborazione, dell'integrazione. Ci fa anche interrogare su quelli che sono gli errori del nostro tempo e delle guerre che nessuno pensava potessero verificarsi nel terzo millennio alle porte della nostra nazione, della nostra Europa ma che invece viviamo forse con un po' di indifferenza. Allora questo è il momento in cui l'arte ci riporta a porci delle domande importanti sui fenomeni della vita. Grazie.